La Camera Italiana di Siviglia ha un grado di soddisfazione eccellente rispetto ai servizi offerti da Euromedia Comunicazioni. Valoriamo l'umanità, soprattutto la professionalità, la competenza. Euromedia, come gabinetto stampa, ha dato sempre piedi a tutte le nostre idee, facendole volare per la Spagna e per l'Italia. Professionalità, servizio a misura, allegria, voglia di lavorare e grandi garanzie di successo. Grazie a tutti.